Una conferenza stampa per chiarire quella che è la posizione dell'Udc a livello locale in relazione alla situazione nazionale. Noi a livello locale siamo stati dalla prima ora componenti di questa amministrazione e quindi continuiamo su questa strada. A prescindere di ciò che sia avvenuto a livello nazionale, la scissione dell'Udc che vira verso destra, ma per noi questo non ci fa cambiare nulla perché il nostro interesse primario, oltre soprattutto a quello che è la poltrona, gli schieramenti e il nostro interesse è sempre la città di Cava di Tireni e i nostri concittadini che ci hanno votato per farci stare in questa posizione. Tante cose sono cambiate a livello del Consiglio Comunale per l'Udc a fronte delle dimissioni dell'assessore Paola Moschillo e anche della perdita di un altro pezzo che è la scelta che ha fatto Baldi di lasciare l'Udc. Come è cambiato a fronte di tutti questi movimenti il peso dell'Udc all'interno del Consiglio Comunale? Alla luce di questi mutati assetti noi abbiamo avviato come Udc un ragionamento con il sindaco e con il partito di maggioranza relativo che è il PD. Con grossa senso di responsabilità e con grossa maturità abbiamo deciso di differire ogni ragionamento comunque teso a rafforzare l'attuale amministrazione ad un momento successivo perché come sapete ci saranno le politiche. Politiche dove noi, lo dico con orgoglio di un'identità che non ho mai rinnegato, noi siamo schierati con l'Udc, l'Udc a livello nazionale avvirato verso il centro-destra, noi siamo lì, faremo anche campagna elettorale mantenendo un profilo basso, così come promesso al nostro sindaco per non creare motivi di tensione e lo faremo scegliendo di volta in volta, secondo ragioni di opportunità, anche se partecipare o meno a degli incontri.